Però sì, è un paese dove si dice troppo spesso che il piccolo è bello. Io non credo che il piccolo sia così bello perché poi sono le aziende piccole quelle che nei momenti di difficoltà falliscono. Dobbiamo diventare un paese capace di comprendere che le grandi cose si fanno attirando investitori terzi, creando cose più grandi di se stesso e se creiamo cose grandi magari finiremo a usare sempre più prodotti italiani e attirare gente qua, assumere gente qua.